Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo una lente da tavolo molto ampia, ingrandisce due volte ed adatta per osservare giornali stampati ma anche per lavorare perché c'è molto spazio sotto quindi se dobbiamo lavorare con minuterie, infilare anelli, aghi, se dobbiamo controllare dei punzoni, dei timbri, dei marchi, possiamo utilizzare questa lente. Adatta per modellismo, per creatività ed è anche un ottimo supporto per lettura quindi per leggere libri, riviste e giornali. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per un prossimo nostro video. Se volete potete anche iscrivervi al nostro canale. Grazie ancora. Grazie a tutti.